lezione 40g tecnica pentatonica di pagina 159 questa è la seconda parte andiamo a vedere in particolare l'803 l'803 parte in questo modo la stessa cosa sul do quindi il gioco è di trasportarlo in si bemolle maggiore sol minore qui abbiamo già da qui questa questa sol minore sul si bemolle sul do sul re sol si bemolle ad esempio arriviamo qua poi torniamo indietro do si bemolle sol chiaramente bisogna farli lenti studiarli lenti belli scanditi bene anche perché queste scale pentatoniche hanno tantissimi salti di quarta ed essendo con il mignolo o con l'indice risultano molto difficili per la mano sinistra oltre che per la mano destra velocità sempre 160 ma tu prima studialo con calma grazie a tutti grazie a tutti Ok, lo faile. Evidentemente poi lo porti a questa velocità, senza preoccuparti se non riesci a farla esattamente a questa velocità, però la porti più veloce possibile. Ci vediamo nel prossimo video dove lavoriamo sulla tecnica dello strumento. Ciao!